VALERIO MARINO Sono Valerio Marino, ho 29 anni, sono di Roma e faccio l'attore. Ma che è un lavoro quello? A Italia non sta storia, si è un lavoro. Ma Valerio ti devi mettere in libro professionismo, ma onestamente c'è un'attività che mi sta per decollare Valerio. Il cristiante fa il pusher. Valerio, quelli come te stanno con i pezzi al culo. Ma te c'hai mai pensato a fare un figlio? Che ti servono soldi? Tra alcuni c'è soldi di mamma. Che vorresti dire, scusa? C'è stato cinese, pechino, lavora con dei cinesi, roba di mignote. Mi ha detto che devi portare il cervello, mi metti a fare il corriere di droga. Io ti dico a te conviene che sto facendo un favore a te. Anche perché ti pago bene, così puoi andare a mangiare una pizza, uno spaghetto o questa rina. Ti grassi un attimo su questa carriera d'attore. Lassi le mani con i jaboni. Basta queste mani, nonna. 200. 200? Non so troppi, se vuoi ti levo un po', eh. No, senti, non ce l'abbiamo i soldi. Ma non è così. Se abbiamo un'emergenza... Sì, mi manda a scheggia. Soldi, 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 eccoli. Vai 10 minuti a scopare con lei! Ma dici una cosa? No, no. Veramente. Hai scopato quella? Hai scopato quella? Vattene a faccio. Dimmi quello che pensi? Che non faccio abbastanza? Che non chiamo abbastanza al mio agente? Che non sono un bravo attore? Che non mi do da fare? No, io non ho detto niente del genere. Però se lo pensi, magari è vero. Ho un incontro importante. Ma se potrebbe svoltare la galliera. Ciao! Torino a essere Valeri? Eh no, Valerio non sono io. Ma facciamo due chiacchiere pure con te. Ti rubo 5 minuti. Non mi fai incazzare! Che cazzo d'ha detto? Ma lei mi ha detto quello che già sapevamo. Che stanno a cercare un personaggio romano per fare sta parte. Eh, è quello mio. Dai, poi, poi. Ma non dovevi fare un provino? Com'è andata poi? Non è andata male. Ho mandato tutta a puttane, come sempre. Ho mandato tutta a puttane, va fanculo. Ah, Valerio, ti dicono sempre queste cose. Te l'hanno mai richiamato o no? Che mi dava di quello? Pronto? Madonna, se è così, Valerio. Non ci devi mica mi cazzo. Pensi che basta che mi presti dei soldi che tra l'altro non c'hai per comprarmi un paio di scarpe? E questa, secondo te, è una coppia? Te ne hai mai lavorato, Valerio. Ci hai mai avuto una lira. Ma ora tutta sta propulsione a questa andò io a nascere. Guarda, io non ho bisogno di chiedere aiuto. Infatti, allora vanno a dare a chi ce n'ha bisogno di aiuto. Vai dalla Cinese, vai. Fallo con lei, l'uomo. No, non ti preoccupare. Ci parlo io. Ti picchia più, ci penso. Non cazzo ti hai avuto in mente, Valerio, di fare una cazzata del genere. Io non ho voglia un bambino con un padre come te. Irene è incinta. Complimenti, Valerio. E' tuo? Ho capito, ho fatto una cazzata. Sono un coglione. Te ne aveva mai fatte cazzate? Io nella vita le faccio cazzate, Valerio. Amici nella merda ci ho mai messi. Vabbè, mo' le potemo fare. Ciao.